Lino Busà ha vittoria per la presentazione di questo romanzo per la prima. Io ho fatto un romanzo che chiaramente è ambientato nel dopoguerra siciliano, il secondo dopoguerra. La Sicilia è liberata, usiamo sto termine, dagli americani con la guerra che continua nel nord ed è un periodo di una grande vivacità. Nasce il movimento di indipendenza siciliano, incominciano a organizzarsi i sindacati, le contadine, si riorganizzano i partiti politici e in questo momento ci sono speranze, speranze di una generazione che è nata durante la prima guerra mondiale e che è diventata adulta, matura con la seconda guerra mondiale. Quindi è un romanzo di una generazione, delle speranze, delle aspettative, dei sogni ma anche delle delusioni di questa generazione con alcuni virtù ed alcuni vizi a cominciare da quello del trasformismo che diciamo le ritroviamo ancora nella situazione politica, sociale, italiana in tutte le latitudini. Ma la domanda sorge spontanea. Come mai vent'anni per terminare questo romanzo? Ma vent'anni sono tanti e questo è un libro che avevo nel cassetto e che non mi decidevo a tirarlo fuori. Debo dire che però in questi vent'anni ho scritto cinque saggi sulla criminalità organizzata, dei lavori che avevano a che fare in qualche modo con la mia professione e come presidente nazionale di SOS Impresa. Criminalità, imprese e mafia, usura e estorsioni. Però nel frattempo alternavo queste fatiche con la scrittura appunto di questo romanzo che per me non dico che era un passatempo perché è stato un lavoro anche faticoso, però ha rotto rispetto agli schemi miei professionali. Poi dopo mi sono deciso a far leggere il romanzo e mi hanno incoraggiato, mi hanno dato dei suggerimenti e allora ho avuto consapevolezza che fosse un'opera che poteva meditare di essere edita e così ho cercato di finirlo e di pubblicarlo.